Ciao a tutti e benvenuti nel canale YouTube della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e signori in questo video voglio aprire con voi tutta sta roba. Guardate, ieri mi è arrivata tutta sta roba, oggi è venerdì 9 giugno nel momento in cui sto a 2023, nel momento in cui carriere mi ha lasciato davanti alla porta questo pacco enorme con dentro tutto questo popò di roba, ragazzi. Questo è il Pledge All In, quindi tutto l'acquistabile, diciamo, di The Witcher Old World, il gioco da tavolo, amici, ambientato nel mondo di The Witcher e prodotto da una casa che si chiama Go On Board, che sinceramente, boh, non so se sia nata per questo gioco, io non la conosco. Comunque, amici, abbiamo parlato a suo tempo, vi ricordate di questo progetto qui sul canale? Feci un video in cui spiegai perché avevo deciso di, a suo tempo, sostenere il progetto e finalmente è arrivato, ragazzi. E adesso vi voglio raccontare una cosa, molto prima di dirvi quanto è costato, prima di aprire con voi queste scatole, vi voglio raccontare questa cosa un po' buffa. Quando ho aperto lo scatolone mi sono arrabbiato moltissimo perché io mi aspettavo di ricevere la Big Box. C'era l'opzione di scegliere fra tutte queste scatole separate, vedete, tutte queste scatole separate, oppure una Big Box con dentro tutto, ok? Con dentro gioco base ed espansioni. E io volevo la Big Box ed ero convintissimo di aver ordinato la Big Box, ok? Quindi appena aprì la scatola e vidi che non c'era dentro una Big Box, mi arrabbiai moltissimo e dissi adesso mi sentono, gli scrivo una mail di vibrante protesta a questi quei di chi erano, go on board, ok? Poi controllo il mio pledge su Kickstarter e non ho mai ordinato la Big Box, ragazzi. Quindi ho ricevuto, ho ricevuto quello che effettivamente ho ordinato. Questo deve essere perché, se non ricordo male, l'opzione Big Box venne introdotta successivamente. Secondo me io pensai, cioè quando vidi l'opzione Big Box dissi, cavolo voglio la Big Box, devo andare a cambiare il pledge e indicare che voglio la Big Box e poi non l'ho mai fatto, ok? Vabbè, comunque, comunque amici, me ne farò una gran ragione, ho tutte queste scatole, vedete, con tutte le varie espansioni, anzi vi faccio prima velocissimo, velocissimamente vedere in cosa consiste il gioco, poi vediamo quanto abbiamo pagato tutto sto ben di Dio. Allora, questa è la scatola del gioco base, ok? Non, non Big Box, la scatola normale, diciamo. Poi c'è, guardate, questa roba qui che si chiama Kickstarter Expansion, ok? Che credo fondamentalmente contenga dei vari moduli, no? Che sono stati sbloccati, tipo degli stretch goal, no? Che sono stati sbloccati durante la campagna Kickstarter, bene, poi vedremo più nel dettaglio, eh? Poi guardate, abbiamo, cos'è questo? Skellige, ok? L'espansione Skellige, c'è un po' di riflesso della luce, ma insomma, portate pazienza, bene. Poi guardate, abbiamo l'espansione Mages, ok? L'espansione Mages, eccola qua. Poi abbiamo, guardate, l'espansione Legendary Hunt, ecco qua. Credo che questa aggiunga tipo il gioco in solitario cooperativo, o comunque dia un'altra opzione per il gioco solitario cooperativo rispetto a quella presente, perché questo è un gioco competitivo, eh? Vabbè, dopo ne parleremo, ne parleremo meglio quando lo guarderemo al tavolo. Poi però, attenzione, signori, c'è anche questo qui, il Playnet, vedete? Eccolo qua. Poi guardate, c'è questo qui, le monete di metallo che dopo guarderemo. Poi c'è questa roba qui che è Mounted Eredin, boh, ha l'aria di essere semplicemente un mostro. Poi c'è questo qui che è il Monster Pack, boh, che ha l'aria di avere anche questo solo miniature di mostri. E poi c'è questa roba qui, guardate, questo è un Dice Set, Dice Set, così, che era fuori dalle scale. Boh, forse sono dadi aggiuntivi? Non ne ho idea, ok? Va bene amici, quindi questo è tutto quello, no, che abbiamo, che abbiamo ricevuto. Quindi sono uno, due, tre, quattro, cinque scatole di un certo livello e poi delle scatolette, delle cose un po' più, così, accessorie, diciamo. E per tutta questa roba, allora intanto, cari amici, vi voglio dire che la campagna è finita l'11 giugno del 2021, quindi proprio due anni spaccati praticamente, c'erano quasi due anni spaccati. E vediamo però quando doveva essere consegnata, secondo le previsioni, doveva essere consegnata nel giugno del 2022. Quindi, amici, un anno di ritardo. Dovevano metterci un anno, ce ne hanno messi due, ok? Quindi, vabbè, succede, succede, non è particolarmente piacevole, ma insomma, se non altro, a un certo punto è arrivata, perché guardate che ragazzi, con i Kickstarter non si sa mai, eh, poi cosa può succedere. Anzi, dovremmo fare, ups, dovremmo fare dei video, dovrei fare dei video dedicati alle campagne Kickstarter andate male. penso che sarebbe una cosa interessante da fare, di cui parlare. Allora, il costo del pledge senza spedizione era 280 euro, ok? Quindi per questa roba qui senza spedizione ho pagato 280 euro, ma quanto avrò pagato la spedizione? Proviamo ad andare a vedere nella pagina della campagna, forse c'era una stima di quanto la spedizione avrebbe potuto essere, poi le stime a volte non corrispondono al vero, eh? Però vediamo almeno qual era la stima. Allora, vediamo un po'. Europa, 20 euro. Può essere che io abbia pagato 20 euro di spedizione, secondo me ho pagato di più di spedizione, non ho pagato solo 20 euro. Vabbè, insomma, fidatevi che la stima era di 20 euro. Sarà stata anche un po' di più. Diciamo che abbiamo pagato un po' più di 300 euro sta roba, può essere... se qualcuno si ricorda quant'era la spedizione per l'Italia, scrivetelo qua sotto, qua sotto in descrizione, ok? Vediamo, ragazzi, cosa c'è all'interno di queste scatole. Sarà un unboxing abbastanza lungo e sostanzioso, direi. Cominciamolo. Eccoci amici, eccoci al tavolo con The Witcher Old World. Ho messo la videocamera più in alto possibile, così da riuscire a inquadrare tutto l'inquadrabile. Questa è semplicemente la scatola del gioco base. Vi faccio notare, allora, credo che sia un progetto tutto polacco questo qua, eh? Credo che questa casa di produzione sia polacca, credo che questo autore sia polacco, l'autore del gioco, Lukas Wozniak, però non so, forse sto facendo disastri con la pronuncia. Vi faccio notare che c'è l'etichetta... vi fate notare, vi faccio notare intanto che c'è anche l'etichetta CD Projekt Red, che a quanto lo so, non c'entra nulla in realtà con la realizzazione del gioco, forse è solo una questione di licenze, tipo... o forse c'entra? Aspetta che non lo so, credo che siano loro i produttori di questo gioco. E guardate, vi faccio anche notare che c'è l'etichetta, vedete, qui sul cello fanno Shaded Miniatures, vuol dire che ho scelto, appunto, l'opzione con le miniature ombreggiate. Sapete che... boh, boh, era un po' vittima di stupidera quando feci questa... questo ordine, perché mi sono dimenticato la big box, ho scelto le Shaded... le Shaded Miniatures sono un pacco, a volte, eh? Almeno, in Lords of Ellars erano un po' un pacco, secondo me, le miniature ombreggiate, cioè erano più belle e non ombreggiate. Però, vabbè, insomma, vedremo, vedremo, signore, lo scopriamo assieme com'è, com'è, com'è il risultato qua. Vi faccio vedere i dati indicati qui sul lato, vedete, è un gioco da 1 a 5 giocatori, dura da 90 a 150 minuti a partita ed è dai 14 anni in su. Credo che questo si chiami Leschen, vero, questo mostro qui? Ah, tra l'altro, diciamo pure, diciamo subito questa roba fin dall'inizio, non c'è Geralt, ok? Per voi appassionati della saga di The Witcher, si chiama Old World perché è ambientato molto tempo prima degli eventi narrati nella saga di The Witcher da Sapkowski e nella serie Netflix e nei videogiochi, insomma, che sono tutti, no, in qualche modo ambientati attorno, costruiti attorno a Geralt. Ecco, qui no, siamo in quel mondo là, ok? Però siamo, appunto, secoli prima, ok? C'è Ciri, Ciri è stata introdotta in uno stretch goal, ma Ciri può esserci perché Ciri ha l'Elder Blood, l'Elder Blood, cari amici, cioè può viaggiare nel tempo. Ah, piacimento, come sapete, Geralt no, Geralt non può, ok? Va bene, amici, vi faccio vedere velocemente il retro della confezione, anzi, ve la zoomo anche un po', guardate, crepi l'avarizia. Allora, guardate, il continente dopo la conjunction of the spheres, la congiunzione delle sfere, questo è l'evento che, sapete, nella Lordy the Witcher causa la proliferazione dei mostri, no, nel mondo di gioco. C'è stato questo evento, questo è un po' un cliché, no, in tanti mondi fantasy, è un tipico troppo del fantasy, no, questo qua, cioè il momento, il disastro nel passato che ha fatto sì che nascano i mostri, no, c'è il Times of Troubles nei Forgotten Realms, cioè una roba abbastanza comune, diciamo. Qui si chiama la congiunzione delle sfere. Dopo la congiunzione delle sfere, il continente non è più un posto sicuro. La magia è arrivata nel mondo e, assieme alla magia, sono arrivati anche dei terrificanti mostri e dei bloodthirsty, cioè assetati di sangue mostri. Cinque differenti scuole di Witcher iniziano a addestrare i loro adepti per affrontare questa situazione. Diventa un Witcher, affronta terribili mostri e crea la tua storia nell'old world. Esplora il vasto continente a combatti i terribili mostri, adesso non vi traduco tutto, combatti i terribili mostri. Diventa una leggenda! E qui dice che la Deluxe Edition contiene 28 epic monster miniatures, per la gioia della mia amorosa che odia fortemente le miniature. Forse le userò dei cubetti al posto delle miniature per giocarlo con lei, sarà l'unico modo per convincerla. Allora, guardate, qui è molto bello perché ogni scatola ha questo schimino di contenuti, no? Molto bello, vabbè, non vi leggo tutto, ma insomma, credo sia interessante questo schemino. Va bene, amici, allora vediamo cosa c'è dentro questa casa. Riuscirò con la sola imposizione delle mani? Sì, ce l'ho fatta a rompere questo cellofan. Quindi, amici, vediamo che cosa troviamo dentro questa scatola. Vediamo com'è, vediamo com'è la qualità del materiale. Scusate, sto morendo. Nel frattempo, la qualità del materiale... Oh, eccoci qua. Leviamo il cellofan, zoomiamo verso l'esterno così vi faccio vedere. Allora, togliamo il cartone. Beh, intanto il cartone mi sembra di buona qualità, mi sembra... Scusate, ci mette tre ore per via della... Sì, beh, mi sembra... Oddio, deve essere anche meglio, forse. Beh, vabbè, non è male, dai. Peccato che non ci sia una decorazione qua dentro, eh. Ormai ci sono alcuni giochi che mi hanno abituato troppo bene, no? Eh, Verdel, ok? Cioè, che hanno la decorazione anche all'interno, no? Dei coperchi, delle scatole. Adesso quando non la trovo rimango deluso, ok? Va bene. Allora, signori, vediamo cosa c'è. Beh, intanto c'è un bel manuale. Eccolo qua, la prima roba che troviamo. Diamo un'occhiata a questo manuale, no? Cosa dite? Oh, guardate, c'è anche lo schemino che spiega come mettere via le robe, forse. Vabbè, lo vedremo dopo. Intanto vediamo il manuale di gioco, cari amici, e zoomiamo un po', così lo vediamo un po' più da vicino. Anche qua non vi leggerò il manuale, eh. Io ho dei vaghi ricordi. Beh, intanto è molto bello che ci sia tutto questo flavor text, eh. L'ambientazione sembra molto, molto curata. Ecco, forse da questi crediti si capisce quanto c'entra CD Projekt? CD Projekt Red? Quanto c'entra, ragazzi? Game developers, marketing video, vabbè, insomma, qui dovrei indagare un po' di più, diciamo. Però sembra essere abbastanza coinvolta, in realtà, eh, CD Projekt Red. Allora, amici, questo, vi faccio un piccolo riassunto mentre sfogliamo il manuale, è un gioco competitivo, ok? Quindi ogni giocatore prende controllo a un Witcher e lo muove in giro per la mappa di gioco, che dopo ovviamente guarderemo, e muovendolo in giro per la mappa di gioco deve usare le sue carte. C'è una fortissima componente di deck building, ragazzi, in questo, in questo gioco. Quindi ognuno ha il suo mazzo di carte. E le carte hanno usi multipli, no? Si possono usare sia per muoversi, per muoversi, se non ricordo male, bisogna scartare una carta col simbolo, no? Del punto dove si vuole andare, diciamo. E si possono usare anche per combattere. Quando si combatte, le proprie carte sono un po' i propri punti ferita, no? Quindi si possono giocare per fare danno, però più li giochiamo e più finiamo anche i nostri punti ferita, perché, appunto, le carte sono anche i punti ferita. È una bella idea, no? Cioè, come dire, rappresenta la stanchezza che sopravviene a un certo punto, no? A forza di combattere, ok? E ci sono anche i dadi, perché è possibile giocare a poker di dadi. Senza i poker di dadi non potrebbe essere un gioco The Witcher, ovviamente. Comunque, vabbè, setup, gameplay. La carta del manuale non è di qualità eccelsa, eh? Carta abbastanza sottile, senza delle qualità particolari. Va bene, vi sfoglio, appunto, il manuale senza soffermarmi più di tanto, se questo video durerebbe 12.000 ore. Mi pare che il manuale, insomma, sia, no? Abbiamo molti esempi. Fights, Monster Fights, Witcher's Fight Turn. Ecco, i Witcher possono anche combattersi fra di loro, eh? È un gioco competitivo questo qua. Cioè, ne esiste anche una versione cooperativa e solitaria, però è un po' una variante, diciamo. Full player turn. Ah, guardate, è esemplificato. Cioè, c'è un turno intero esemplificato per due giocatori. Va bene, ok, perfetto. Può essere utile. Va bene. Ecco, vedete, qui c'è una descrizione di questo solo mod, però ho sentito dire che il solo mod presente nella scatola base, cioè questo, è molto insoddisfacente. È molto meglio usare il solo mod del legendary... no, come si chiama? Del... non mi ricordo più. Vabbè, del... insomma, c'è un'espansione che lo trasforma in cooperativo solitario più avanzato. Ecco, quindi è meglio usare quel metodo fin dall'inizio. Ok, qui c'è un glossario, va bene. E qui finisce il manuale, cari amici. Quindi questo era il regolamento. Molto bene, mettiamolo da parte. Allora, torniamo, zoomiamo un attimo verso l'alto per tornare alla... ecco, sto già facendo danni irreparabili. Già da questo si è visto che la carta non è di ottima qualità. Allora, torniamo al gioco, ragazzi. Allora, c'è questa roba qui che è un foglio così, che spiega semplicemente forse come mettere via la roba, immagino. Va bene. Deluxe Edition. Ah, ok, questa spiega forse. Ah, ok, perché nell'edizione non deluxe, al posto delle miniature, ci sono i token. Cavolo, era meglio prendere quella, forse. Vabbè. Qui ci sono tutti i vari upgrade, vedete, indicati per la... per la deluxe, giusto? Ah, praticamente ti stanno dicendo... non usare il token, mettilo nella scatola, usa la miniatura. Uno, due, tre... no, forse per certe robe devi usare i token, ma poi sul tabellone usi la miniatura. Vabbè, non lo so, ragazzi. Lo scoprirò solo vivendo, diciamo. Va bene. E qui c'è il tabellone di gioco, ragazzi, che a questo punto guardiamo. Cerchiamo di togliere dalla scatola. Tac. E ci sono anche dei... così, delle spugnette per tenere tutto bene. Va bene, ok, ci piace. Perfetto. Intanto togliamo tutto così diamo un'occhiata al tabellone. Allora, amici, vediamo un po' la plancia di gioco. Eccola qua. Vediamo quanto grande... beh, parecchio, direi, eh. Direi che diventa parecchio grande. Vediamo se riusciamo a inquadrarla tutta. Eccola. Com'è? Ci sta? Beh, sì, più o meno ci sta. Dai, riuscite a... con la camera a questa altezza riuscite... riuscite a vederla. E... guardate, beh, insomma, chi conosce... chi conosce il mondo di The Witcher? Qui si sentirà già a casa, vedete? Guardate, Boclea, abbiamo qua, Visima, Novigrad, Sidaris, Sintra, Wengerberg, Kermoren, ah, quanti ricordi, amici, ok? E l'espansione Schellig, credo, aggiunga un pezzo da questa parte, no? Con tutte le isole in mezzo, in mezzo al mare. E qui, credo, ci siano i display da cui prendere le carte, no? Adesso non mi ricordo più bene... o forse quello è il display da cui si comprano le carte nuove, diciamo, da aggiungere a proprio mazzo, non mi ricordo, ragazzi. Comunque, qui ci sono tutti, vedete, questi sono tutti slot per carte, diciamo. Va bene, ha qualcosa dietro il tabellone? Vediamo se ha qualcosa... no, non ha niente, non ha assolutamente niente, vedete, dietro è nero. Va bene. Poi, naturalmente, noi abbiamo anche il playmat, quindi daremo un'occhiata a com'è il playmat, ok? Bene, per il momento togliamo tutta questa, tutta questa roba, non so più dove appoggiare la roba, ragazzi, cioè la sto appoggiando sopra i fornelli, vi dico solo questo, spenti rigorosamente, ovviamente. Bene, allora qui abbiamo una fustellina, cari amici, una fustellina con delle componenti, vedete, che non so bene a cosa sa, le monete, dei token... ah, quindi i token per i mostri forse servono lo stesso, allora, no? Questi hanno l'area di essere i token per i mostri. Questa roba qui non so assolutamente a cosa serva, sono dei token con i nomi delle varie città e anche questo non so cosa siano. Sembrano dei nomi questi? Non lo so, non so a cosa servono, vabbè, comunque vi faccio vedere questa fustella. Oh, e finalmente, amici, arriviamo ai nostri meravigliosi mostri, quindi vediamo cosa hanno combinato con queste miniature shaded, quindi togliamo... come si fa adesso qua, ragazzi? Forse devo togliere... ecco qua, possiamo togliere tutto questo vassoio, molto bene, sotto ce ne sono altri, ma li scopriremo dopo, prima vediamo cosa c'è sopra questo primo vassoio, ok? Allora, ha questo bel coperchio, vedete, in plastica, con la scritta a rilievo, The Witcher Old World, e vabbè, adesso, ragazzi, se vogliamo guardare tutte le miniature, ci mettiamo mille, mila anni, vediamone un po' come... Beh, intanto sono molto contento che sotto abbiano il numerino, ok? Ragazzi, se c'è una roba che mi fa perdere la testa di Time of Legends, John of Arc, l'altro gioco pieno di miniature che ho, è che le miniature non hanno nessun segno identificativo, qui invece se non altro hanno un segno identificativo, che bestio sarà questo qua? Potevano anche scriverci il nome, già che c'erano, invece di mettere il numero. Vabbè, ve ne faccio vedere qualcuna, ragazzi, perché no, veramente, se no non finiamo più, eh? Cos'è sta roba, per esempio? Questa sembra tipo una striga, cos'è? Vabbè, è il numero 27, chissà se da qualche parte c'è un qualche riferimento, ok? Ehm, va, allora, più che shaded, sembrano dipinte di nero a me, cioè, no? Non avete anche voi questa impressione, eh? Guardate che carino questo, questo cos'è? Un'arpia, tipo, sembra. Mi piacciono molto anche le basi, eh? Guardate le basi come sono, no? Beh, 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 le miniature sembrano di un certo livello, eh, ragazzi, che ne pensate? Mi sembrano di un certo livello, ok? Vi faccio vedere, allora, vediamo un po' lui, chi è questo qua? Un bestio, anche questo? Mi piacerebbe vedere qualche Witcher? Ma, boh, saranno solo mostri questi? Questo qua? Cos'è sto bestio? Oh mio Dio, guardate questo qua, questo qua, ragazzi? Ma non sembrano tanto shaded queste miniature, eh? Cioè, sembrano proprio dipinte di nero brutalmente, cioè, mh, vabbè, boh, non lo so, io non sono esperto, eh, quindi, come vi sembra questa qualità di shading, se siete, se siete esperti del ramo, diciamo? Ok, quindi questo va messo così, poi guardate, faccio vedere le più appariscenti, cos'è questa? Una chimera, tipo? È una chimera, ragazzi? Mi piace molto, mi piacciono molto le, le, le basi, eh? Le basi sono molto, questo tipo ha il cadavere di un cavallo sotto, guardate, cioè, carino, no? Beh, 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 le miniature sembrano, no? Di un certo livello, ecco, questo è il Lashen, guardate, quello rappresentato nella, nella copertina, tipo, che ha anche un, tipo, un lupo che lo accompagna, ok? Beh, sembrano, sembrano di ottima qualità, eh? Sembrano molto, molto, carine, molto, molto carine, belle, 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 ci piacciono, ci piacciono, ci piacciono, cos'altro c'è di interessante? Vediamo, questa qua, questa qua che ha anche un buco, peraltro, sotto, questa qua sembra una delle streghe, come si chiamavano, ragazzi, quelle di The Witcher 3? Non ce n'era una fatta così? Quelle, quelle streghe, vabbè, non mi ricordo, e fra quelle appariscenti c'è anche questa, guardate, cos'è questa bestia qua? Un grifone, questo, un grifone, ce l'hanno fatto, questo ha una posa un po' strana, eh? Questo non mi convince come posa, cioè, praticamente, si tiene su con la sua stessa coda, cioè, mmm, boh, non lo so, come posa, non sono, sono convintissimo che sia una bella idea, vabbè, non ve le faccio vedere tutte, ragazzi, guardiamo questo, questo che bestio è, un serpentone, tipo, cos'è sta roba? Ok, beh, 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 sono carini, no? Sono, sembrano, sì, questo non riesco più a rimetterlo dentro, ah, ok, ecco, perfetto, vabbè, direi anche basta, ragazzi, no, perché veramente, se ve le faccio vedere tutte non finiamo più, eh? Non sembra che ci siano dei Witcher qua, sembra che ci siano solo, solo mostri, quindi i Witcher devono essere da qualche altra parte, sembrano solo, solo dei mostri. Eh, forse, eh, CD Projekt c'entra perché hanno usato lo stesso artwork, diciamo, utilizzato nei videogiochi, no? Potrebbe essere per quello che è stata coinvolta CD Projekt. Va bene, quindi abbiamo visto questo primo vassoio, andiamo avanti, sempre dentro alla scatola del gioco base, ragazzi, vi ho detto che sarebbe durato tanto sto video, c'è un'altra spugnetta, ok, quindi buttiamo via questa spugnetta, e poi c'è, allora, vediamo un po', prima si può togliere questo, e questo, ecco, forse loro sono i Witcher, secondo me loro sono i Witcher, vedete, con i simboli delle varie scuole, no? Questi devono essere i simboli delle varie scuole, vedete? Quindi qui c'è quello di Geralt, no? No, scusate, qual è quello di Geralt? Questo? Il lupo? Questo sembra più un gatto, tipo, va bene. Allora, vediamo un po', vediamo i Witcher, ragazzi. Primo Witcher, questo se quella infografica ha senso di che scuola è, scusate? Che scuola è questa? Beh, non saprei definirla dalla... insomma, vi faccio vedere solo le miniature, è meglio. Quindi questo è un Witcher, eccolo qua, con la sua bella spadona, molto bene. Qui ne abbiamo un altro, eccolo qua, guardate che bello mino. Qui abbiamo questo qua che sembra che stia, tipo, saltando, beh, è carina questa, no? Molto carina, ok? Qui abbiamo questo qui che invece è, tipo, accucciato sopra una colonna, ok? Questo qua, che sembra avere in mano, tipo, una spada corta. Bello. E poi abbiamo questo qui che invece sembra che stia lanciando un hard, tipo, sì, guardate, ha anche il simbolino sulla mano, guardate che carino. Vedete? Ha anche il simbolino sulla mano, proprio, dell'hard. Quindi, pam, sta lanciando i nemici. Guardate, questi sono i dadi per il coso, il dice poker, che sembrano, sono molto simili a quelli usati in The Witcher 2, no? Non mi ricordo come funzionano quelli usati in The Witcher 3, ma The Witcher 2 ce l'ho fresco, perché lo sto ancora giocando in questo momento, e mi sembrano molto simili, no? Ai dadi usati in The Witcher 2. Carini, carini. Qualcuno si è lamentato che non sono leggibilissimi, eh, questi numeri. Vabbè, secondo me bisogna più che altro farci l'abitudine. Guardate, qui ci sono delle baselle che immagino vadano incastrate sotto i Witcher, per indicare il colore del giocatore, immagino, così. Tac. Ok. Spero che poi, però... Ok, sì, sembra che si riescano a staccare senza fare troppa pressione, perché sono di plastica dura, non sono di plastica molle. Era meglio farli di plastica molle, forse, questi qua, no? Poi ci sono dei cubetti, per la gioia della mia morosa. I cubetti servono semplicemente a tracciare le caratteristiche sulle schede del personaggio, e un altro set di dadi, vedete? Ci sono due set di dadi, e qui uno spazio vuoto, stranamente. Vabbè, ci inventeremo qualcosa, ci si mette forse bisogna metterci le monete, magari. Boh, non lo so. Va bene, andiamo avanti, amici, perché abbiamo ancora, allora, abbiamo un altro coperchio. Dentro questo coperchio ci sono questi cosini qui, che credo servano semplicemente per tenere traccia del punteggio, e sono di plasticaccia, posso dire, sono veramente di plasticaccia. Cioè, sembrano sorprese dell'uovo di Pasqua, tanto per farvi capire il livello, ok? Vabbè, forse erano meglio i token di cartone, al posto di questi qua. Va bene, quindi buttiamoli dentro questo sacchettino, e qui ci sono quintalate di carte, cari amici, quintalate di carte, quintalate di carte, quintalate di carte. Allora, e dietro tra l'altro hanno... Ah no, ma forse questo è solo tipo il coperchio, immagino. Spero sia, spero sia il coperchio. Beh, facciamo che ne apriamo un mazzo, e guardiamo un po' di carte semplicemente da un mazzo, perché sennò, sennò ragazzi, famonotte, come si dice in antico temeriano. Allora, vediamo un po'... Le carte sono finissime, eh? Cavolo, e non credo ci siano delle buste incluse. Vabbè. Comunque, vedete, prima vi dicevo che le carte sono multiuso, no? Vedete, se usate il simbolo qui, questo è il simbolo che serve per muoversi, fondamentalmente, ok? Mentre invece, questi sono i valori indicati... Questo credo sia il costo, ok? E questo è quello che succede in combattimento. Cioè, questa, per esempio, aggiunge una difesa e può creare delle combo, no? Cioè, se ho una carta gialla, cioè, se gioco questa e anche questa, credo di aver capito, che possano andare in combo. Cioè, può, forse. Cioè, se gioco questa e anche questa, crea un danno. Quello lì credo sia il simbolo del danno. Vedete, le carte, tematicamente, vedete, sono exploding shield, sono dei colpi tipo di combattimento. Poi ci sono anche, ecco, queste qui non so cosa siano, forse sono delle quest, queste qua. Ci sono anche delle carte quest, queste sono delle carte che invece si riferiscono ai mostri, ok? E sì, questo è solo tipo una specie di copertina del mazzo, per così dire. Va bene, bisogna imbustarle queste carte, eh, ragazzi? Bisogna imbustarle. E chissà se ci stanno imbustarle. Forse sì, però, eh. Mi pare che ci sia abbastanza, no? Abbastanza spazio qua per poterle, per poterle imbustare. Invece, guardate, credo che l'ultima roba che ci rimanga da vedere qua sono le plance giocatore, che sono molto curate, perché, guardate, sono triple layer. Quindi sono curate, 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 perché, vedete, sono, guardate, allora, sono double layer, vedete? Eh, ah, questo si può togliere, tra l'altro? Perché si può togliere? Ah, perché forse posso cambiargli il nome, tipo? Beh, vabbè. E vedete, allora, qui vanno messi i cubetti per indicare i nostri livelli nelle varie abilità, no? Allora, credo che questi siano uguali per tutti, vediamo se è vero. E invece l'ultimo, eh, infatti, l'ultimo, vedete, è l'abilità specifica di ogni Witcher, no? Quindi questi, questi tre sono uguali per tutti e l'ultimo è la, è la, è la, e vedete, qui c'è la spiegazione, no? Dell'abilità specifica, specifica per ogni Witcher, che dipende dalla sua scuola, tipo, no? Dalla scuola, eh, a cui, a cui appartiene. E qui va messo il valore di difesa, forse, ok? E, mh, sotto bisogna mettere i trofei, credo, no? Qui va messo il mazzo di carte, credo, e credo che qua sotto qualcosa va messo anche qui, però. Eh, vabbè, adesso non lo so, da qualche parte vanno messi i trofei che si ottengono, no? I trofei sono il modo con cui si vince in questo gioco, eh? Quindi, allora, vedete, abbiamo Raifar, abbiamo Killar, abbiamo Godric, abbiamo Jasper e abbiamo Erim. Però questa roba sembra che si possa togliere. Secondo me, guardate come funziona, vi ricordate che qui c'erano, vedete? Secondo me, uno può mettersi il suo nome personalizzato, no? Scegliendolo fra questi. Cioè, lo toglie questo e mette il nome, e mette il nome qui, tipo. Vabbè, non è così fondamentale, però carino che abbiano lasciato anche questa possibilità. Va bene, direi, signori, che abbiamo visto tutto il contenuto della scatola base. Adesso cominciamo a guardare le espansioni. Allora, amici, direi che come prima cosa cominciamo dall'espansione che si chiama Kickstarter, quella con tutti i vari Stretch Goal, che vedete, ha niente meno che Siri in copertina, ok? Perché infatti, guardate, questi sono, questi dovrebbero essere i moduli, no? Aggiunti da questa espansione. Quindi abbiamo appunto il modulo Siri, Lost Mount, Monster Trail, Adventure Pack, Wild Hunt, ok? Allora, Monster Trail deve essere un modulo che aggiunge le bombe che non ci sono nel gioco base, e che si possono usare al posto delle pozioni o a fianco delle pozioni, credo. Aggiunge la possibilità di, appunto, cercare i mostri usando questi Trail. Questa qua, Wild Hunt, è la modalità cooperativa o in solitario consigliata, diciamo. E poi ci sono, boh, Adventure Pack, immagino siano semplicemente delle nuove carte, nuove carte esplorazione, nuove carte more of the same, diciamo. Mentre questo, boh, forse non lo so cosa sia, sinceramente, questo Lost Mount. Va bene, amici, direi che andiamo subito a togliere il cellophane e a immergerci immediatamente nel contenuto di questa scatola. Allora, vediamo un po', amici, cosa c'è qua dentro. Chissà dove metterò queste scatole, peraltro. Vabbè, abbiamo già parlato della qualità del cartone, buona ma non eccelsa. Allora, abbiamo un bel manualetto qua, anzi, queste sono proprio solo due pagine, vedete, che mostrano i nuovi componenti, Lost Mount, Adventure Pack e Siri. Ok, quindi, sembra che, insomma, il regolamento sia, 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 no? Molto, molto tranquillo. E sembra avere un regolamento un po' più complesso, solo Monster Trail e Wild Hunt. Ah, ok, questi due moduli hanno il loro regolamento, ok? Quindi diamo un'occhiata veloce a questi regolamenti. Allora, cominciamo con il Monster Trail, lo zoom un po', anche qua non ci soffermeremo più di tanto. Ecco qua i nuovi componenti, Game Mods, Bomb Cards, ecco, vedete, ok, Monster Weakness and Special Attacks, ok, va bene, in realtà sono poche pagine. Vediamo anche il regolamento per Wild Hunt, questo sembra già essere un po' più sostanzioso. Game Setup, Setup Changes, The Wild Hunt, ok, ma guardate che, boh, potrei anche provare, io di solito sono un po' allergico, no? Alle versioni in solitario, ma questa potrei anche, cioè ne ho sentito parlare bene comunque di questa versione, di questa versione in solitario, quindi dopo che ho preso un po' di confidenza, diciamo, con il gioco normale, potrei anche decidere di fare dei video in cui giochiamo in solitario, no? Questo sarebbe bello anche farlo live, però ragazzi, per il momento fare i giochi da tavolo live è troppo complicato nel mio setup, cioè non ho uno studio purtroppo, quindi non... è veramente complicato. Va bene, torniamo a guardare cosa c'è nella scatola, ragazzi, zoomiamo anche un po' verso l'esterno così abbiamo un po' più di respiro, e allora c'è questa bella fustellina, guardate, ve la faccio vedere, bella fustellina, eccola qua, togliamo la fustellina. Allora, abbiamo delle nuove plance, beh questa è quella di Siri, vedete, guardate, apriamo così le vediamo, sembrano essere due, quindi abbiamo, vedete, Siri, e abbiamo Alvar, che scuole sono queste qua ragazzi, va bene, abbiamo due Witcher in più, no? Siri, che vedete ovviamente ha l'Elderblood come sua abilità particolare, Potion Tolerance invece ha questo Alvar, va bene, quindi abbiamo queste due nuove plance personaggio, diciamo, che rimetterò nella loro meravigliosa bustina, perfetto, poi abbiamo, vabbè, dei nuovi anellini, no? Per da mettere sotto, abbiamo dei nuovi segnapunti stile sorpresa uovo di Pasqua, come quelli che abbiamo visto prima, dei nuovi cubetti, no? Tutto il materiale che serve, diciamo, per i nuovi Witcher. Ecco, ho tagliato questa parte di video perché qui c'erano dei codici per giocare a questo gioco che sennò mi ha rubate, ok? Quindi al Gwent, no? A parte che, boh, forse l'ho già, non so, l'ho già comprato io forse questo qua, aspetta che non ne ho idea, va bene, non importa. Abbiamo un sacco di mazzi di carte che non guarderemo, ragazzi, perché sennò veramente facciamo notte, quindi abbiamo, vedete, sia nuove carte avventura, nuove carte quest, nuove carte esplorazione, nuove carte mostro, però appunto non le vedremo, quindi accontentatevi di vederle così. Invece vedremo questi qua, ragazzi, che però non so come tirar fuori. Allora, vediamo un po'. Beh, gli insert sono molto simpatici, eh? Gli insert sono molto carini. Vediamo i nuovi mostri, no? Introdotti qua. Per esempio abbiamo, vediamo un po' chi potremmo vedere. Abbiamo questo bestio qui, guardate, che non so bene cosa sia. Guardate che bestio. Eccolo qua, ma un golem, forse? Sapete che non ne ho idea. Vabbè, abbiamo questo bestio qua. Poi abbiamo, abbiamo questo bestio qui, questo cavallo sopra la casa. Sapete che non l'ho capita questa? Cos'è il cavallo sopra la casa, ragazzi? Cioè, sembra essere una mini espansione, no? Cioè, per carità, molto bello. Ma perché? Cos'è? Tipo Snoopy? Cioè, che dorme sopra la cuccia? Cos'è sta Roma? Vabbè, abbiamo il cavallo sopra la casa, che non so bene cosa sia. Io voglio Siri, ragazzi. Che sia lei? Secondo voi ha la faccia da Siri, questa qua? Che sia Siri, lei? 44. Ma potevate anche scrivere il nome già che c'eravate, invece di mettere il numero. Vabbè. Vediamo cos'altro c'è. Sì, secondo me, guardate, questo è l'altro Witcher. Quindi questi due, cioè, questi due sono i Witcher. Giusto? Com'era adesso? Mamma mia, ragazzi, non ce la farò mai. Com'era? Così? Così? Com'era, ragazzi? Com'era? Oh mio Dio, com'era? Così, perfetto, bene, ce l'ho fatta. Qui c'è questo bestio qua. Che... Chi è questo, ragazzi? Beh, non ho idea di chi sia. Comunque, vabbè, vi faccio vedere un po' di miniature anche qua. Aspetta che è veramente complicato metterle via. Uh, sono molto contento che ci sia il numerino anche nello slot, però, eh. Bravi, bravi, oh voi che avete fatto questo gioco. Come caspita, così, perfetto. Bravi, bravi. Questa che cos'è, scusate? Questo è un... Tipo sono tre mostri in uno, cos'è sta roba? Sono dei... dei ratti. Cosa sono? Dei... dei mega ratti? Beh, vabbè. Ok? Bene, molto bene, ci piace, ci è piaciuto. Poi cos'altro vogliamo vedere? Questo qui? Chi sarà questo? Sembra un... Sembra un Dwemer Centurion di Elder Scrolls. E... ok, che era così. Poi... boh, questo qua come lo vedete? Vi piace? Questo qui? Ragazzi, ve ne sto facendo vedere, appunto, un po' a caso, insomma. Va bene, ottimo, signori! E direi che con questo abbiamo visto anche l'espansione che si chiama Kick Starter. Ecco, voglio farvi vedere, prima non ve l'ho fatto vedere nella scatola del gioco base, tutte le scatole apparentemente hanno di lato, guardate, dei brani di... di lore, tipo, no? Questo è carino, vedete? Anche di qua, anche di qua. Carino, no? Trovo che sia, appunto, simpatico. Va bene, signori, andiamo avanti. Prossima espansione. Allora, amici, è il momento di guardare cosa c'è adesso dentro la scatola di Skellige! L'espansione che aggiunge, no? Queste... queste isole, ok? Vi faccio vedere velocemente qui dietro. Vedete, c'è sempre questo specchietto con tutti i contenuti, vedete? Esplora nuove... nuove, nuove location, incontra dei forti abitanti delle isole Skellig e Face Dagon. I Dagon sono questi mostri, c'erano anche nel primo Witcher, non mi ricordo se c'erano nel Witcher 2. Sicuramente nel primo Witcher sì, sono questi mostri che vivono vicino alle acque, no? Nuotano, sono un po' degli uomini... E ci sono anche queste meravigliose miniature di barche che non vedo l'ora di vedere. E vabbè, direi che apriamo subito senza por tempo in mezzo, se ci riusciamo. Aspetta che qua non ci riesco, mi sa. Qua, ragazzi, con la sola imposizione delle mani non riesco, eh? Devo prendere uno strumento ad alta precisione, quindi scusatemi. Prenderò uno strumento ad alta precisione. Eccolo qua, un coltello da cucina, normalissimo. Vediamo, vediamo se riusciamo, sì, ottimo, perfetto. E vediamo, amici, cosa c'è qua dentro. Allora, oh, perché non ho preso la Big Box? Perché non ho preso la Big Box? Anche se va detto che qualcuno che ha la Big Box si lamenta che non distingue le robe del gioco base da quelle delle espansioni, eh? Se non altro noi non correremo questo rischio, diciamo. Va bene, vediamo cosa c'è dentro questa espansione. Allora, solito coperchio di cartone di qualità media, diciamo. E solito manuale, vediamo un po' com'è. Ok, diamo un'occhiata al regolamento. Facciamo un piccolo zoom. Abbiamo, questo sembra essere del flavor text. Qui abbiamo i contenuti, vedete? Qui abbiamo, vediamo un po', game setup, gameplay, dragon track. Ok, c'è un tracciato dedicato a Dagon. Travelling by ships. Travelling from the continent to an island. From an island back to the continent. Ah, ok, quindi ci sono delle regole precise su come si va nelle isole. Full player turn, va bene. Ok, non sembrano esserci poi tante regole aggiunte, eh? Travelling to fight Dagon. New location from the Skellig event card. Va bene, perfetto. Perfetto, amici. Abbiamo visto, abbiamo visto. Skellig and other expansions. Ecco, forse non c'è compatibilità fra tutte le espansioni. Vabbè, probabilmente danno dei suggerimenti su come utilizzarle al meglio assieme. Va bene, amici. Vediamo il resto del contenuto della scatola. Allora, intanto c'è questa fustellina. Vedete? Piccola, tranquilla. Eccola qua, ve la faccio vedere. Sta bella fustellina. Molto bene. Poi abbiamo l'aggiunta al tabellone. Tra l'altro sono curioso di vedere. Probabilmente il playmat ce l'ha sempre questa qua, no? Ce l'ha sempre questo pezzo. Aspetta che adesso vi rizummo all'esterno così lo vedete tutto. Forse il playmat ce l'ha sempre questo pezzo aggiunto. Questo potrebbe rendere il playmat un po' fastidioso, no? Se si gioca solo al gioco base c'è sempre questo pezzo. Vabbè, dopo vedremo quando guarderemo il playmat. Comunque, vedete, ci sono fondamentalmente tre nuove location. Qui vanno messe delle altre carte, forse quelle relative a, appunto, Dagon. Dietro non ha nulla. Vedete? È semplicemente una aggiunta al tabellone. Va bene. Vediamo cos'altro c'è all'interno della scatola. Allora, abbiamo delle schede relative a questo mostro. Eccolo qua, questo Dagon. Ok. Ah, forse qui si possono usare anche il Monster Trail. Forse qui se non usi il Monster Trail, qui se usi il Monster Trail. Vabbè, non lo so, ipotizzo. E qui ci sono un sacco di posti liberi, eh. Quindi, boh, si possono aggiungere altre cose. E qui ci sono delle altre carte che non guarderemo. Ok? Immagino siano, appunto, carte esplorazione, carte avventura. E soprattutto, ragazzi, vabbè, allora, qui abbiamo la miniatura di Stodagon. Eccolo qua. Vedete? Somiglia molto a quello visto in The Witcher 1. Ok? Molto bello anche... No, sono proprio belle le basi di queste miniature, ragazzi. Perché spesso le basi sono neutre, no? Per così dire. Invece qua le basi sono... Sono molto, molto carine. Ok? Bello, bello, bello. Ci piace. E ci piace soprattutto il fatto che ci siano queste meravigliose imbarcazioni. Eh? Guardate che carina. Ed è subito Dakar. Guardate, guardate che carine. Eh? Quindi, vedete, qui si mette proprio la miniatura del Witcher, no? Tututututututu. Che poi viaggerà in giro per le varie isole. Belle, belle. Ce ne sono tre, vedete? Immagino siano tutte uguali. Penso siano tutte uguali. Eccole qua. Quindi abbiamo una, due e appunto tre. Ok? Quindi tre barche. E basta, direi. Quindi questo è il contenuto di... Mettiamo qui questo, mettiamo qui questo, mettiamo qui questo. E questo era il contenuto di Schellige. Signori, abbiamo varie altre espansioni, però, che dobbiamo guardare. Allora, signori, la prossima espansione che vi faccio vedere si chiama Mages. Eccola qua, questa bella, guardate, immagine di un mago che lancia un incantesimo. E questa ci permette di interpretare dei maghi, credo. Perché sapete che nella Lordi di The Witcher, cioè, i Witcher non sono maghi. Cioè, possono lanciare degli incantesimi, ma insomma, gli incantesimi dei Witcher sono molto spiegati, no? Rispetto a quei... cioè, sono i segni, non sono neanche vere e proprie magie. Rispetto a ciò che possono fare i maghi, no? Quindi questa espansione ci permette di metterci nei panni dei maghi. Vedete, diventa un potente mago, impara i segreti della magia, per diventare il più potente wizard, il più potente mago nel continente. Ok? Gioca come un potente mago, impara i segreti della magia, va la stessa roba. Put witchers in their place. Ok? Cioè, insegna, dà una lezione a questi Witcher. Potremmo tradurla, tradurla, tradurla così. Questo mi fa ipotizzare, perché una domanda che mi facevo, non avendo mai indagato più di tanto, era se fosse possibile giocare a maghi contro Witcher, o se i maghi devono giocare solo fra di loro, diciamo. Cioè, se gioco con i maghi, tutti devono essere maghi? Apparentemente no, forse è possibile che uno giochi un mago e un altro giochi un Witcher. Vabbè, insomma, lo scopriremo anche questo. Comunque, apriamo questa scatola. Oh, qui ce la faccio senza strumenti di precisione, ottimo. E vediamo cosa c'è anche all'interno di questa espansione. Oh, molto bene. Con tutto il cello, fan che ho buttato via, riempirò completamente un... Vabbè. E, ok. Quindi vediamo cosa c'è dentro questa scatola. Ecco qua. Coperchio. E, naturalmente, ovviamente, manuale. Allora, diamo un'occhiata al manuale. Beh, non sembra molto consistente, eh. Facciamo la nostra solita zoomatina. Eccola qua. Allora, questo sembra semplicemente flavor text. Qui abbiamo contenuti e crediti. E qui abbiamo, vedete, game setup. Ah, ok. All players decide to play as mages. Some, but not all players decide to play as mages. Ok, ci sono tutte e due opzioni, vedete. È possibile fare sia tutti i maghi, sia maghi contro Witcher, ok. Però, vedete, c'è un gameplay diverso, in realtà. Gameplay change. Vedete, all players decide to play as mages. Some, but not all players decide to play as mages. Ok, interessante, interessante. Va bene. Wisdom and energy. New card types. New card effect. Vabbè. Non sembra che, insomma, le regole aggiunte siano così, siano così, cospicue, così importanti. Va bene. C'è una micro fustellina. Guardate, questa qui. Con dei micro segnalini, ragazzi. A cosa servono questi qua? Sono troppo piccoli, eh. Vabbè. Speriamo non siano difficili da maneggiare. Comunque c'è questa micro fustellina. Poi c'è anche, guardate, una nuova plancia. Eccola qua. Così. Che immagino, beh. Un nuovo display, forse. Forse, no? Per... Boh, forse magari i maghi devono acquistare da qui le carte, invece che acquistarle dal display a disposizione dei Witcher che è stampato nel tabellone principale, no? Boh. Ipotizzo che sia, che sia quello. Poi abbiamo, guardate, torniamo alla scatola, abbiamo le nuove, vedete, le nuove planci giocatore se si decide di giocare come maghi. Quindi vediamo un po' quanti sono. Possiamo scegliere fra... Guardate, ben cinque maghi diversi, ragazzi. Quindi in pratica abbiamo altrettanti maghi di quanti sono i Witcher. Ma carino. Abbiamo Alzur, abbiamo Ardea, abbiamo Gekira, abbiamo Othar e abbiamo Filippa. Ah, ma questa è Filippa, questa è la mitica Filippa Aylheart. Questo è un personaggio importante, ragazzi. Forse sono tutti personaggi importanti, allora mi viene, mi viene da pensare. Però l'unica che mi fa, che mi ringa belle, come dicono gli anglosassoni, è Filippa. Forse anche Ardea l'ho già sentita. Gli altri sinceramente non mi ricordo, però vabbè. Moralmente sono tutti personaggi importanti, magari, nel mondo di The Witcher. Ok. Ci sono quintalate di altre carte, vedete? Carte qua, carte qua. Non ve le faccio vedere. Vi faccio vedere, invece, guardate, questo è il materiale fondamentalmente per i nuovi. Vedete, qui ci sono tutti i cerchietti dei nuovi colori, no? Per i nuovi colori introdotti dall'espansione. I nuovi segnapunti, eccoli qua. I nuovi cubetti per tenere traccia delle abilità, eccole qua. E ovviamente le nuove miniature, ragazzi. Diamo un'occhiata alle nuove miniature. Questo qui, che potrebbe anche sembrare un Witcher, va bene. Poi abbiamo questa qua, bella, che sembra... Sono tutti in posa, tipo, da lanciare in casa. Spero che la videocamera sia brava nel mettere a fuoco. Poi abbiamo questa qua, che tipo, sembra essere assieme a dei corvi. Cosa sono? Degli uccelli. Sembra tipo un druido, va bene. Poi abbiamo... Abbiamo... Ecco, questo l'ho visto, l'avevo già visto, e non mi convince per niente, ragazzi. Cioè, cosa dovrebbe rappresentare? Un portale, tipo. Cos'è sta roba? Sembra uno che si schianta su una frittata, cioè, non... No, c'è qualcosa che non mi convince, ragazzi, di questa scelta di design. Va bene. E poi abbiamo questo qui, che invece sembra... Cos'è? Sembra tipo essere sospeso in aria, con un librone. E dei libri anche per terra. Va bene. Ok. Questi signori sono i maghi. E qui abbiamo anche, guardate, carino qui, no? Che ci siano i simbolini di tutte le varie... Di tutte le varie scuole di magia. Va bene. Che fanno un po' il verso, no? Alle scuole... Alle scuole, diciamo... A cui appartengono i vari... I vari Witcher. Va bene, amici. Quindi, a questo punto, ci manca solo una espansione grande. E... E poi tutte le varie espasioncine piccole. Allora, amici. L'ultima scatola grande, diciamo, che ci manca, è... Questa qui, la Legendary Hunt. Che non ho assolutamente idea di cosa sia, sapete? Allora, vediamo un po'. Face New Monsters. Save the World. Prepare yourself for the epic final fight. Allora, alcuni mostri sono così potenti che seminano paura e distruzione tutto attorno a loro. Città dopo città. Uccidere una bestia così pericolosa trasformerebbe ogni Witcher in una leggenda vivente. Solo che, ovviamente, non tutti i Witcher sono in grado di tenere testa a una sfida simile. Prendi parte in una Legendary Hunt e affronta faccia a faccia le più... le bestie più pericolose del continente. Quindi, vabbè, apparentemente sono dei mostri più potenti, no? Un'espansione che introduce mostri più potenti da combattere, probabilmente con delle meccaniche anche un po' più potenti. Ok? Vediamo un po'... Vediamo un po' se capiamo dal contenuto... se capiamo meglio di che cosa si tratta. togliamo il cellophane anche da qua. Molto bene. Perfetto. E vediamo che cosa c'è qua dentro. Allora, vabbè, abbiamo il regolamento che ora vi farò vedere, cari amici. e vi zoomo un po' anche qua. Eccolo lì. Quindi, flavor text. Contenuto, vedete? Setup. Bene. Gameplay. Legendary Monsters. Ok. Drivingness. Solo mod. Ah, ok. Ci sono le regole anche per giocare in solitario. Vabbè, qui c'è sempre, vedete, il suggerimento su come combinare questa espansione con le altre. Bene, ottimo. Fa piacere che pensino anche a quello. E vediamo cosa c'è nella scatola. C'è una bella fustellina con questi token abbastanza incomprensibili. Non so bene cosa siano, cosa rappresentino. Boh. Vedremo. Poi abbiamo un sacco di carte. Allora, le carte, vedete, che rappresentano proprio i mostri e altre carte, anche qua, che immagino vadano usate. Non so bene come. Forse per i combattimenti contro questi mostri. Sono pieni di spazi vuoti, queste scatole. Quindi, boh. Cioè, cosa va qua? Cosa va qua? Sembrano, boh. Ah, forse, vabbè, bisogna mettere quei token. Però, vabbè, ho l'impressione che ci sia un po' troppo spazio in queste scatole. Va bene. Va bene, amici, vediamo questi mostri leggendari. Beh, sembrano abbastanza grandi, no? Per esempio, guardate, è bello anche pesante questo qua, sostanzioso. Guardate. Questo è proprio un golem, no? Sembra. Beh, 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 questo è importante. Spero che sulla plancia ci sia un posto dove mettere questi mostri. Questo qua, guardate, chi è? Un gigante? Un gigante tipo Skyrim, sembra questo qua. Guardate. Eh? Beh. Beh, 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 ha in mano quella che sembra un tipo, cos'è, una mazza? Sembra più un'ancora, ma immagino sia una mazza. Poi abbiamo, aaaaaaah, ragazzi, ma anche gente di un certo livello abbiamo qua, eh, sapete chi è lui? Lo riconoscerei tra mille. Lui è Gunter O'Dimm, amici, il main villain dell'espansione Heart of Stone, no? Di The Witcher 3. Una delle storie più belle in assoluto, ragazzi, narrate in The Witcher 3. Oh, mi fa paura solo toccarlo, lo metto giù, ok? Se avete giocato con l'espansione, sapete perché mi fa paura. Questa cos'è? Un'amantide religiosa, tipo? Cos'è sta roba? non saprei, ragazzi, come si chiama questo mostro qua, però spero di non trovarlo mai in camera, ecco, questo ve lo posso dire. Anche a questa grandezza, eh, non occorre che sia più, più grande di così, come caspita, si metteva via. Ok, così. Questo è uno che sta per fare stomp, col suo piedone, vedete, chi è questo qua, ragazzi? Bè, beh, alcune delle sculture sono molto creative, eh, va detto, anche come posa. A volte la creatività va un po' a scapito, diciamo, anche della, della credibilità. E invece questo cos'è? Una specie di angelo delle tenebre, cos'è sta roba? Eh, purtroppo, ragazzi, scusate, sono un po' ignorante, quindi non... E sì che dovrei conoscere questi mostri, ma i nomi non mi vengono in mente, cioè proprio, sono un disastro. E questa roba qui, questo è un mega rospo, un rospone, tipo, guardate, un rospone tremendo che ci tira la lingua, e ha dei buboni dietro, e ha un buco sotto, anche, guardate. Va bene, amici, quindi abbiamo visto anche il contenuto della, eh, come si chiama, Legendary Hunt. Adesso ci mancano solo le espasioncine piccole. Allora, ragazzi, ecco le espasioncine piccole. Allora, abbiamo questi dadi, che, eh, non saprei bene come aprire, peraltro. Fatemi strappare, proprio violentemente, tutto. Vediamo se riusciamo a aprire, oh, sta bustina, perfetto. E, cioè, boh, a cosa serviranno sti dadi, ragazzi? Serviranno semplicemente per il poker di dadi? ma hanno una grafica un po' strana. Cos'è quello? Il simbolo dell'hard? Cos'è? Mmm, boh, sembra... Cos'è che... Chi è che ha un logo così? C'è un'azienda che ha un logo che somiglia a questa... a questo simbolo. Mmm, Bob, secondo me, potevamo anche farne a meno, eh, di questi... di questi dadi. Cioè, non ho ben capito a cosa potrebbero servirmi. Io spero che con tutti i buchi che ci sono nelle varie scatole, io sta roba qua riesco a infilarla da qualche parte, eh, ragazzi? Dentro le... dentro le scatole dei giochi, senza... senza che stiano in giro. No? Oh, qui bisogna fare un lavoro proprio di Tetris per rimetterli dentro a sacchetto. Così, così, così. Oh, bene. Ce l'ho fatta a rimetterli dentro a sacchetto. Poi, vabbè, diamo un'occhiata anche alle monete a questo punto, visto che ci siamo. Allora, vediamo un po' le monete. Oh, ok. E dovrebbe esserci anche un pregevole sacchettino per mettercele dentro. Perfetto. Guardate il pregevole sacchettino. Beh, carino, no? Guardate. Molto, molto simpatico. E le monete. Vabbè, immagino che queste siano semplicemente da usare al posto delle monete di cartone, no? Sono un po' cheap, eh, ragazzi? Sono molto, sono molto leggere, non sono tanto... non sono tanto sostanziose. Ehm... Poi quanto valgono, ragazzi? Non ce n'è anche scritto. No, 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 è una pessima idea sta roba. Cioè, praticamente, devo decidere io quanto valgono? Cioè, devo decidere io che, boh, sarà bronzo, cioè, questa vale poco, questa vale un po' di più, questa vale più di tutte? Eh, senza che ci sia scritto? è un'idea pessima, ragazzi. In quelli di cartone c'è scritto? Aspetta che non mi ricordo. Vabbè, è un'idea pessima comunque il fatto che non ci sia scritto, che non ci sia scritto il loro valore. Eh, no, 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 ragazzi, non mi piace. Cioè, per quanto sia ovvio, il loro valore ce lo devi scrivere. Eh, niente, 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 non ci siamo. Vabbè, le rimetto dentro al sacchetto, tristemente. Dopodiché passo a guardare, cos'è sta roba? Mounted Eredin, ok, che ha l'aria di essere semplicemente un mostro, no? Cioè, non riesco questo ad aprirlo con l'imposizione delle mani, devo usare lo strumento di precisione, scusate, lo uso fuori campo, così se nel frattempo mi taglio tutte le dita della mano, almeno non vedete la scena splatter, ok, bene, dovrei avercela fatta. Togliamo la plastica da qua e vediamo cosa ci riserva questo, ecco, io, sapete che queste scatoline piccole, porca miseria, ma hai fatto 850.000 scatole grandi, e buttaci dentro anche questa, no? Cioè, perché me la devi dare a parte così? Ah, ma vedete, ci sono proprio anche le carte, quindi è proprio, è proprio un mostro in più da aggiungere, questo Mounted Eredin. Eccolo qua, guardate, ve lo faccio vedere, beh, 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 fa la sua porca figura, è una specie di cavaliere scheletrico, guardate, eh? Carino, che ne dite? simpatico, no? Guardate come lo scultore ha usato, tipo, cos'è, uno standardo per, per, per aumentare la stabilità della miniatura. Vabbè, mi sa che questo non riuscirò mai a infilarlo dentro, a infilarlo dentro qualche scatola, eh? Questo me lo devo tenere in questa scatolina, in Omnia Secula Seculorum. Oh, che fastidio. Va bene, vediamo questo Monster Pack, ragazzi, fatemelo aprire anche questo, utilizzando lo strumento di precisione fuori campo. Vediamo se riesco, senza fare troppi danni, sì, dovrei esserci riuscito, molto bene. Oh, ok, perfetto, ho tolto la plastica, e vediamo, cari amici, ok, cosa c'è qua dentro, e anche qua c'è semplicemente, ci sono semplicemente, ci sono semplicemente, eh, cos'è sta roba? Ah, c'è anche una specie di spiegazione, allora c'è il Kyran, oh mio Dio, il Kyran, no, il Kyran, no, vi prego, vi ricordo, chissà se anche qua c'è nel Quick Time Event, quando si combatte il Kyran, mamma mia, che incubo, ragazzi, in The Witcher 2 il Kyran, il Koshkei e la Siren, ok, va bene, quindi, mh, ci sono queste istruzioni, c'è anche questo tokenino, questo tokenino, c'è questa roba qui che sembra un ragno, e non lo toccherò mai, quindi scordatevelo, non ve lo farò mai vedere, vi farò vedere questo che credo sia la Siren, eccola qua, le Siren sono queste bestie, ce ne sono tante in The Witcher 3, no, che sono sott'acqua, ma poi possono anche volare fuori dall'acqua, giusto? Mi pare, ok, carino, molto bello, questa è fragile, questa ragazzi, questa state attenti, state attenti perché è attaccata solo lì, questa è un po' fragilotta, è un po' fragilotta, e tra l'altro non saprò mai adesso come rimetterla qua dentro, come cà, come cà, così forse, sì, così, perfetto, va bene, vi faccio vedere il Kairan, che non è a grandezza naturale, fondamentale, fortunatamente, cioè non è enorme come nel gioco, è un po' più piccolo, e beh, carino, cioè carino, insomma, per quanto possa essere carino un Kairan, però, vabbè, insomma, simpatico, ci sto dentro, ci sto dentro, e non vi faccio vedere quella roba lì che sembra un ragno, perché sennò dopo devo prendere degli psicofarmaci, credo, per, per, per resistere, notare che c'è anche lo spazio per mettere questo, eh, notare la raffinatezza, ok, dopo che avrete defustellato questa complicatissima fustella, avrete il suo, il posto dove metterlo, va bene, oh, ma aspetta, c'è anche un'altra roba qua, ci sono anche le carte, vedete, eccole qua, queste qua, mi erano rimaste dentro alla scatola, va bene amici, abbiamo visto tutto, però, in realtà ci manca ancora una roba, sapete cosa? Il coso, il playmat, quindi adesso vado a prendere il playmat, anzi, guardate, lo prendo direttamente senza fare neanche un taglio, senza fare neanche un, 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 taglio nel montaggio, lo prendo immediatamente, eccolo qua, sbam, quindi vediamo com'è, vediamo com'è sto, sto coso, sto, eh, playmat, perché sapete che a volte le stampe dei playmat sono deludenti, eh, allora, vediamo, beh, intanto questo qua è molto deludente, perché non ha neanche i bordi, non ha neanche, ho già deciso che è deludente, ragazzi, cioè non ha neanche i bordi, vabbè, e infatti vedete come immaginavo, ma no, la stampa in realtà sembra buona, eh, la qualità della stampa sembra buona, però vedete, ha tutti i pezzi aggiunti, eh, aspetta, aspetta, adesso vi devo zoom, fare un ultra zoom, eh no, ma neanche zoomando fuori non riesco, eh, allora, ha tutti i pezzi aggiunti, vedete, cioè adesso state vedendo la parte centrale, qua ci sono le isole schelliche, vedete, per di qua, guardate, vi faccio vedere, hop, vi faccio vedere, qui ci sono tutte le isole schelliche da questa parte, e dall'altra parte ci sono i maghi, vedete, c'è la plancetta aggiunta dai maghi, quindi in pratica se uno usa il playmat, deve per forza avere sempre quei pezzi aggiunti, uno di qua, uno di là, che se vuole giocare solo col gioco base, insomma, non è proprio il massimo della vita, però va detto che le stampe sono belle crisp, eh, guardate, vi faccio vedere, faccio proprio uno zoom zoom zoom, guardate, sono, no, cioè mi sembrano, mi sembrano belle, perché spesso i playmat sono deludenti, perché hanno delle stampe, anzi, mi sembra quasi più vivido, no, dal punto dei colori, mi sembra quasi più vivido del, del, della plancia originale, ok, quindi, bello, 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 questo ci piace, va bene amici, direi basta ragazzi, vi ho fatto vedere tutto ciò che potevo farvi vedere, che c'è dentro The Witcher Old World, bene signori, quindi questo era il contenuto, di tutte queste scatole amici, che ci sono arrivate per The Witcher Old World, il gioco da tavolo ambientato nel mondo di The Witcher, ovviamente non vediamo l'ora di provare questo gioco, tra l'altro, stavamo mostrando il playmat, come ultima cosa, amici che fate i playmat, cioè dovete darci dei contenitori di cartone un minimo decenti, cos'è sto sacchetto di plastica per metterci il playmat, vi prego, poi per favore fateci i bordi un po' più belli, a parte che l'ideale è quando il playmat sta dentro la scatola del gioco, quello è proprio il top, tipo off per esempio, che ha questo bellissimo playmat che sta proprio dentro la scatola del gioco, ecco, questo sarebbe, quello sarebbe proprio l'ideale, va bene, amici vi ho fatto vedere tutto, ovviamente proveremo appunto presto questo gioco, e appena insomma avremo un po' di confidenza, ve lo porteremo sul canale, faremo i nostri consueti contenuti, faremo l'esempio di gioco, il tutorial, la nostra analisi critica, e se sarà il caso potremo anche fare dei gameplay completi, in solitario, magari nella versione appunto Wild Hunt, vedremo, vedremo, ok? Io intanto vi ringrazio moltissimo per aver guardato questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se anche voi avete sostenuto questo gioco, se l'avete ricevuto, se l'avete magari anche già provato, nel qual caso fateci anche sapere le vostre primissime impressioni, e ragazzi continuate a seguirci perché abbiamo tanto tanto materiale, come vedete, da condividere con voi qui sul canale, quindi restate sintonizzati, cliccate sulla campanella, se vi piacciono i nostri video, considerate anche la possibilità di sostenerci tramite tp, o tramite un abbonamento qui del canale youtube, Mosè dalla Maschera Riposta, vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video, ciao ciao! Ciao!